Per chi pratica la numerologia esiste una chiave di lettura simbolica. Fatto sta che sono esattamente le 13 e 13 minuti quando il primo consigliere si presenta dinanzi al segretario comunale per apporre la sua firma. Da quel momento è un susseguirsi di consiglieri di maggioranza ed opposizione che sanciscono in questo modo la fine anticipata e traumatica del secondo mandato di Elio Costa a sindaco di Vimbo Valencia. Esattamente 14 anni dopo la storia si ripete e, affiancato dai pochi fedelissimi rimastigli, Costa lascia ammestamente il palazzo municipale. Le dichiarazioni di fuoco a noi rilasciate dal sindaco hanno provocato un'accelerazione nella crisi. Un'accelerazione voluta proprio dal senatore di Forza Italia Giuseppe Manzalovori con il quale la rottura è diventata insanabile ed il parlamentare Vibonese non si tira indietro assumendosi la responsabilità di questa decisione. E il caso di dire con una battuta il dato è tratto? Penso proprio di sì, ma non essendoci più i numeri per andare avanti mi sembra che sia la conclusione ovvia, l'epilogo ovvio di una vicenda che purtroppo ha visto il sindaco non essere in grado di riaggregare intorno a sé un numero sufficiente di consiglieri comunali per potergli permettere di andare avanti. Io non ho fatto altro che essere conseguenziale rispetto a quello che ho detto il 2 dicembre. Ritirando i miei assessori ho pregato il sindaco di fare in modo che ci potesse essere una maggioranza per poter continuare in maniera tranquilla a lavorare. Questo dopo un mese e mezzo non si è verificato e per cui devo essere conseguenziale rispetto a quanto ho detto il 2 dicembre. Ora, cosa accadrà alla città di Vibonese? Ci sarà una fase di commissariamento ma soprattutto una fase di veloce campagna elettorale? Ma guardi, soprattutto quello che succederà domani come dichiarato ieri dall'intero gruppo consigliare ci saranno le dimissioni. Questo porterà nell'immediato a un commissariamento del Comune. Per fortuna ho fatto in modo che il commissariamento possa durare poco perché già nella prossima tornata elettorale il Comune di Vibonese ritornerà al voto. Naturalmente inizierà una campagna elettorale ma prima di iniziare la campagna elettorale c'è da sedersi e da cercare di individuare la persona giusta, le persone giuste per poter cercare di fare qualcosa di buono per Vibbo. Perché questo è l'intento, è l'unico intento da parte del sottoscritto e di tutti coloro che si ritrovano nella mia linea. Costa intorno a sé aveva aggregato formazioni politiche di diverso tipo. Invece Forza Italia alla prossima tornata elettorale vorrà dialogare con qualcuno oppure tira dritto per la sua strada? Ma guardi, ritengo che Forza Italia voglia dialogare con tutti coloro i quali hanno in mente le stesse cose del sottoscritto quindi trovare la figura giusta che possa ridare uno slancio al Comune nell'assoluta autonomia, senza imposizioni, senza dictat con l'unico faro, quello di migliorare le condizioni di vita di questo Paese che è il Paese nel quale abbiamo deciso tutti quanti di vivere.